Che cosa vuol dire ristorazione sostenibile? Vuol dire servirsi di approvvigionamento in ambito locale, per esempio prodotti da agritoltura biologica, ma non solo quelli, servirsi di prodotti di stagione, ma ristorazione sostenibile richiede anche la messa a punto di specifici protocolli per le tecniche di preparazione e di cottura, per il trasporto, per il servizio e per la gestione dei rifiuti. Tutti questi elementi devono essere tenuti insieme da un collante che è quello dell'educazione alimentare, in modo che il fruitore possa poi usufruire di tutti i benefici che ha avuto dalla ristorazione sostenibile.